È ufficiale. Ignazio Boschetto, il tenore di Il Volo, ha detto il fatidico sì. Ma chi è la fortunata sposa? E quali sono i dettagli del loro matrimonio da sogno? Scopriamolo insieme. Vi siete mai chiesti com'è un matrimonio da favola di una celebrità? Oggi vi racconto tutto sul matrimonio di Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini. Ignazio Boschetto, uno dei volti più amati del trio musicale Il Volo, è convolato a nozze con Michelle Bertolini. Lo scorso dicembre, la modella italo-venezuelana aveva mostrato l'anello di fidanzamento sui social e ora le prime immagini del grande giorno sono state rivelate. Il matrimonio sembra essere stato celebrato con rito civile, circondato dall'affetto di amici, parenti e dei compagni di Il Volo, Gianluca Ginobble e Piero Barone. Le immagini mostrano la coppia appena sposata abbracciata dai loro amici più cari, mentre rose, bianche e palloncini decoravano la scena. Cosa ne pensate di questo matrimonio da favola? Fatecelo sapere nei commenti e non dimenticate di lasciare un like se siete fan di Il Volo. La sposa, Michelle Bertolini, ha indossato un abito personalizzato, disegnato da Elisabetta Garuffi, creando un look indimenticabile per il loro grande giorno. Non è ancora stata rivelata la location esatta del matrimonio, ma dalle foto sembra un evento intimo e suggestivo. Vuoi restare aggiornato su tutte le notizie più emozionanti del mondo dello spettacolo? Iscriviti al nostro canale e attiva le notifiche. Durante la cerimonia, Ignazio e Michelle sono stati accolti da un lungo applauso dopo aver pronunciato le loro promesse d'amore. Il video su Instagram che li mostra circondati dai loro cari ha già ricevuto migliaia di visualizzazioni e i fan non potrebbero essere più felici per loro. Questo è tutto per oggi. Grazie per averci seguito. Continuate a riflettere e a cercare la vostra verità. Alla prossima!